Finale di partita Mambilla-Zuccaro-Casal De Pazzi 3-0 Era la partita che ti aspettavi O qualcosa non ha funzionato? Cominciò così Quello che non ha funzionato Noi abbiamo regalato tantissimi punti per loro Quindi anche il secondo set Che è finito 27-25 Noi abbiamo regalato 11 punti diretti per loro Quindi tantissimo E questo è un risultato che secondo me non possiamo fare Non possiamo regalare così tanti punti 5-6, 6-7 va bene Ma 11, diciamo così, è doppio e tantissimo Poi quello che non ha funzionato Cioè il secondo set Noi siamo andati in campo per vincere E poi il pubblico che ha aiutato tanto per la squadra E noi non lo dico che siamo mollati Secondo me abbiamo trovato un pubblico Quello che ha detto anche l'anno scorso Che è veramente difficile giocare Perché questo stimo non lo vediamo nessuna altra parte in B1 Come la squadra mia Io, come la verità Non sono contenti con i miei giocatrici Perché potevamo fare molto meglio Secondo me Quando credevamo di più Potevamo anche andare su quarto Anche io speravo anche su quinto set Perché dopo 2-0 Cioè loro hanno già Ce l'avevano in testa Che 27-25 che perdiamo Io ho detto Non mi interessa perché Perdi un set va bene Ma la partita ancora continua Senti avete battuto molto bene Anzi battete molto bene Chiaramente mettete in difficoltà la squadra Però poi Nei frangenti della partita Qualche Magari Sono un po' Un più ragazzia l'anno scorso Se questo è Cioè ti dico È palagiotrice di 2001 Quindi Ancora Non c'è 15 anni neanche E tutti gli altri sono di Cioè abbiamo 3 o 4 di 99 E tutti gli altri sono di 2000 Ok Quindi abbiamo cambiato 7-8 giocatrici Quindi abbiamo Diciamo così Che è una squadra nuova Novissima Sì La nostra forza è veramente Ci battiamo bene Secondo me Tatticamente possiamo fare La battuta bene Poi dopo Dentro del gioco Quello che manca Secondo me L'esperienza per loro Perché Quando una palla Loro Noi abbiamo detto che Quando c'è la palla rigiocata Attenzione che i ruoli Rallentano i colpi E la fanno tanti piazzati E noi non siamo Noi Siamo rimasti un po' più in piedi Non siamo usciti Dalla posizione Quindi Questo era Secondo me Un punto Senti Ultima domanda Dove la vedi la mamma Villa Zuccaro Secondo me È una di più forti Squadre in B1 A questo momento Poi Anche adesso È cominciato a crescere Tanto Montella Secondo me Anche un'altra squadra È forte Maglia ti dico Che è qualche partita Che gioca veramente bene Poi dopo Anche loro Fanno una partita Dove fanno tanti errori Io lo vedo Una squadra Ordinato Sbagliano pochissimi Come abbiamo visto La statistica Hanno sbagliato 5-6 Palloni Quindi quando loro Vanno così E continuano così Secondo me Loro possono arrivare Anche Non lo dico Dove ma Lassù Dove eravamo Noi l'anno scorso Grazie Sandor Alla prossima A lo prego